Ci troviamo alla stazione Sforza Policlinico, in pieno centro città di Milano, una delle stazioni più importanti della linea 4. Ci troviamo a circa meno 30 metri rispetto al pieno Campagna, una delle stazioni più profonde di tutta la linea della metropolitana. Al momento, come opere civili, abbiamo completato circa il 95%. Stiamo affinando le ultime parti relative agli impianti, che sono al 90%. Abbiamo montato tutte le scale mobili, al piano altro abbiamo montato i tornelli, sempre al piano altro abbiamo montato le scale mobili in uscita, sia sul lato di Via Sforza e sia sul lato dell'Università Statale. Stiamo ultimando le scale in uscita verso il pronto soccorso, che saranno ultimate entro fine dell'anno. Ci troviamo alla fine di Via Pantano, dove è previsto l'arrivo del collegamento pedonale tra la stazione Policlinico del M4 e la stazione M3 di Missori. L'intervento prevede un rifacimento di tutta la strada, quindi allargamento dell'area pedonale, rifacimento della pavimentazione e la piantumazione di nuove piante. Qua stiamo scavando il collegamento vero e proprio, che è un tunnel che si collega alla stazione M3 di Missori. Grazie a tutti.